Buongiorno Cristiano, sono Ilaria, come posso esserle utile? Sì, buongiorno Ilaria, salve. La chiamo perché avrei bisogno di un'informazione. Dovrei controllare il movimento sul mio conto corrente. Sì, certo. Le chiedo solo se puoi inserire il suo codice utente. Certo, inserisco subito. Perfetto, ho inserito le credenziali. Ok, perfetto. Grazie mille. Le chiedo anche di inserire la password. Sì, certo. L'inserisco subito. Password inserita. Ok, perfetto. Possiamo procedere. Posso esserle utile ancora in qualcosa? Guardi, grazie. In realtà avrei bisogno di un bonifico per l'agito di mio figlio. Riescirebbe a farmelo? Ok, perfetto. Allora, per un bonifico le chiedo ancora di inserire il token che le invio per sms. Perfetto, grazie mille. L'inserisco subito. Sì, token inserito. Ok, possiamo procedere al bonifico. Posso esserle utile ancora in qualcos'altro? Grazie mille, è stata gentilissima. Per ora basta così. Veloce, facile. Che bello il mondo, banca più a ritmo. Grazie mille, è stata gentilissima.